E io dico grazie a Millie Carlucci, grazie Millie di essere qua. Grazie a te Mara, sono felice che tu abbia cominciato così questo pomeriggio, perché veramente Alex è un esempio, si dicono quelle persone che sono, in inglese si dice larger than life, più grandi della vita, perché trovare dopo quello che gli è successo la forza di ricostruirsi una vita e che vita, con quale energia, con quale determinazione, un esempio per tantissime persone. Che lui poco prima dell'incidente aveva detto al suo compagno e amico da sempre, sono felice, ma veramente, pochi minuti prima, e poi è successo questo, ma io sono sicura che lui ha subito sette arresti cardiaci, la perdita delle gambe, e c'era sempre fatto, sono sicura che ce la farà, e come dicono gli americani, positive thinking, non ho la tua pronuncia, però gliel'ho mollata, caramina. brava, ma è vero, è vero, poi lui è uno che ci crede, forza Alex, ti vogliamo bene, siamo davvero tutti con te, allora ti ho presentato ai TG come la regina, tu sei, tu sei una regina della televisione, non cominciare a fare la modesta, ti prego perché lo sai, lo sai, io ho sempre detto che tu sei la più brava, io ho una serata, io ero una serata, mi pare proprio, stavo proprio con Arbore ed eravamo una serata a Torino, la presentazione o forse a Roma, non mi ricordo, della Vespa, però insomma c'era tutta la famiglia Agnelli, e tu hai condotto quella serata e poi parlavo a tedesco, inglese, io ero lì seduta al tavolo, dicono, ma questa è la più brava in assoluto, no, è la verità, io mi imbarazzo ai complimenti, però non sono complimenti, i complimenti è quando uno dice una cosa e dà una leccatina, invece, noi ci conosciamo da talmente anni, tu lo sai, mi conosci bene, io dico sempre quello che penso, con me non ci possono essere mai equivoci, per cui quello che dico è la verità, e cominciamo subito con un bel filmato, lei si imbarazza davvero, perché in fondo è timida, molto, lo sai, non in fondo, anche in superficie, come all'inizio, tu eri timidista, hai fatto patinaggio per quello, per superare, però è anche bello che tu sia rimasta, no, ma sai, poi alla fine negli anni, ecco, la saggezza degli anni vuol dire anche aver capito che tanto sono così, è inutile lottare contro questa cosa, lo sono, mi imbarazzo, lo dico e cerco di esorcizzare questa cosa con la quale dovrò convivere fino all'ultimo giorno della carina. Ma certo, anche perché se non siamo cambiate prima, se cambia più, no, non si cambia più. Poi posso dirti una cosa, forse se non fossi stata timida avrei fatto l'architetto, no? Certo. E' andata per la mia carriera normale, invece la voglia di combattere questa questa specie di drago, no, che ti avviluppa e ti impedisce di uscire fuori, mi ha portato a fare spettacolo. Quindi, vedi, alla fine. Se io ti dicessi che io ero timidissima e volevo fare la suora, tu ci crederesti? No, davvero, così. Sì, volevo fare come le mie suore canossiane, dove io sono andata alle elementari, volevo essere madre Zelinda, che era la mia suora. Certo. Poi vedi che strada invece ho preso? Però, però, che vuol dire? Questo è un omaggio a Millie, alla carriera di Millie Garlucci. Quindi diamo via al filmato, mi raccomando, molta attenzione. Augurandoci che possiamo vincere questa quarta puntata di Giochi senza frontiere. Uscirà un disco in autunno, che abbiamo chiesto di presentarlo così, in anteprima, per primo. Ciao, ciao, Michi, ciao, Renzo. Qui Millie dal piccolo Tibet. Adesso vediamo Millie Garlucci in convenio del coreografo, appunto, di questa truppa. Lo spettacolo ha avuto un grossissimo successo. Beh, magari come esibizione si può fare di meglio, comunque sono una principiante per cui bisogna accontentarsi. Chi si nasconde sotto la maschera? Grazie, grazie. Una bella carrellata. E giustamente c'è Renzo, perché Renzo veramente è stato in là, di tutto quanto. La sorridente Millie Garlucci. Mi coniò questa etichetta che fu fortunatissima. E Renzo stesso dice che proprio in quel programma lì, poi lui prese te e altre tue colleghe. Che succede? Abbiamo un po' di trambusto qui dietro. Aiuto che spavento. No, siccome siamo in pochi, ho detto, sta succedendo qualcosa. E, eccolo, eccolo qua. E Renzo dice, da allora, da quel momento, in televisione c'erano soltanto delle belle, belle ragazze, ha detto, ma in quel momento lui le chiamava le parlanti, cioè coloro che non erano soltanto di contorno, di bellezza, ma delle vere giornaliste con un taglio giornalistico e parlanti. Renzo, un femminista convinto, perché certo, perché ci ha dato l'occasione di non essere le belline che arrivano con la busta, c'era la valletta allora, era il modo di cominciare a lavorare nel mondo della televisione, no? Bellissime, alcune fortunatissime, tipo la Ciuffini, però non parlanti in realtà. E lui invece ci diede la responsabilità, era anche Rai 2, quindi una rete e una trasmissione della sua, un po' di dissacrazione rispetto alla messa cantata, direi, uno più ufficiale. Però giustamente lui che cosa fece? Captò anche il momento storico in cui le donne stavano cominciando ad esprimere la propria personalità. E dare il giusto risalto che le donne meritano. E ci diede un risalto pazzesco, davvero. Per cui lui, oltre ad essere un genio, secondo me, dello spettacolo, ciao Renzo, si guarda sempre, ma è anche uno proprio che ha dato il là alle donne. No, no, hai fatto un grandissimo lavoro, perché poi è sempre complicato a cominciare, poi dopo una volta preso l'abbrivio ci si infila in una corrente, ma a cominciare quello che... Peraltro tu sei capitata, per caso, no? Ma lui mi vide... Cioè, GBR, no? Sì, lui mi vide a GBR, dove io ero per caso, a fare un lavoro per caso, perché in realtà io facevo l'università, insegnavo pattinaggio, dovevo fare tutt'altro. Però colsi questa occasione di andare a fare lì un lavoro un po' improvvisato di presentatrice, giornalista, spostavo le sedie, mi pulivo la scenografia la mattina, insomma, si faceva un po' di tutto. Cioè, tu fino a prima di GBR non avevi mai pensato di fare la televisione? No, perché... Non era nei tuoi pensieri? No, soprattutto non era nei pensieri della mia famiglia. E nei progetti di... No, figuriamoci, la mia famiglia proprio assolutamente... Perché papà che cosa voleva? Papà mi voleva inizialmente magistrato, e quando io non feci giurisprudenza e andai a fare architettura, che già era una scelta molto avanti e dissacrante rispetto all'idea, no? Il magistrato è il magistrato, giurisprudenza è giurisprudenza. Invece quelli erano anni in cui la facoltà di architettura era anche bollente dal punto di vista proprio delle manifestazioni, di tutto un discorso civile e sociale, che si agitava lì. E io andai e feci architettura. Quando poi neanche questo feci come mestiere mio padre, steso poi... All'inizio non l'hanno presa bene? No, l'ha presa malissimissimissimo, proprio male, 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 male. Allora, vediamo gli inizi, dai. Mi dispiace, ho tramortito il cameraman, ma la Carlucci che balla Feeling me la voglio riprendere tutta io. Buongiorno signorina Carlucci. Scusi, sono un po' emozionato, ma è un tale, è un tale, sto sorridendo, signorina Carlucci. Ragioniere, si tenga su da sé per piacere. Le devo confessare che è un tale onore ballare con lei, perché noi in ufficio parliamo molto delle sue gambe, che sono delle gambe bellissime. Ragioniere, mi vado a far... Quello è Crazy Bus, con i gatti. Crazy Bus, uno dei primi programmi. Sì, sì, il secondo subito dopo l'altra domenica. E fu una bellissima esperienza, anche perché i gatti stavano esplodendo in quel momento. Certo, il gruppo. Erano davvero il fenomeno, l'astro nascente, che poi, insomma, troppe ne hanno fatte canzoni. Te ne avranno combinate di tutti i colori, perché conoscendoli bene sono molto birichini loro. Davvero, davvero, divertente. E poi io giravo sempre in pattini, perché comunque questa era la mia ultima esperienza artistica, no? Quella della pattinatrice. E quindi fu una cosa, insomma, che in qualche modo funzionò. Anche se io ancora ero un'esperta, insomma, davvero, ero ai primi passi, dai. Però ti divertivi, dai, una ventata d'allegria. Ma era veramente... In famiglia sempre scettici, sempre... Ma sono stati scettici per anni, anni, anni. Veramente. Perché, secondo loro, era un tipo di carriera nel quale non costruivo. In effetti il nostro è un mestiere nel quale hai tanti alti e bassi, no? Cioè, è tutto legato a qualcosa che passa nell'aria, per cui succede o non succede. E a volte succede una cosa meravigliosa senza che neanche tu le abbia... È vero. ...programmate. È vero. Però ci sono anche i momenti... Ci sono i momenti bui. Di fermo. Nonostante uno sia bravo, sia preparato, eccetera, però... Beh, io li ho vissuti sulla mia pelle, tu anche, poi ci sono stati... Tutti, tutti, tutti. Ma certo, assolutamente. Quindi per questo mio padre diceva, ma... Che lavoro è questo? E quindi lui, giustamente, no? Da papà voleva qualcosa dove io potessi... Come ogni genitore. Come ogni genitore, no? Come ogni genitore. È chiaro che c'è questo. Senti, ho visto un filmato ieri, i nostri, i miei autori, che vanno sempre a trovare delle chicchette. Sì. Ti dirò che ho visto, io ero a casa, ovviamente, e mi mandano tutti i filmati e ne ho visto uno esilarante. Dai. Non avevo mai visto, Millie. Ah, hai indicato qualcosa di netto. Due Benigni. Tu e Roberto Benigni, ma non l'avevo mai visto questo. Vediamolo insieme. Perché davvero è una chicchetta, eh, questo. Roberto Benigni! Starmi lontano. Dove vai? No! Dove parca tu? Fermami, Millie! Un tornado, vuoi questo? Te lo lascio. Non ti mollava, ma conoscendo la tua timidezza, io penso che tu in quel momento lì volevi sparire, sprofondare, scappare. Una proprio ingoiata dalla terra, davvero. Fu la prima volta che lui elaborò questo suo sketch della buttata a terra della padronica, una di casa, in quel momento io, diciamo, presentavo, e il bacio, perché quello che non si è capito nell'angroviglio, che poi l'ho fatto, è stato uno dei suoi classici, ma insomma essere la cavia ti assicuro che mi ha preso veramente molto contropedia. Che programma era Millie questo? Allora, quello in realtà era un concerto, era una serata, diciamo, un evento, ecco. E lui era l'ospite d'onore e quindi, ovviamente, conoscendolo dall'epoca di Arbore, no? Dall'epoca dell'altro domenico, io sapevo bene di che cosa fosse... Dove faceva il critico esilarante, meraviglioso. Ma sapevo di che cosa fosse capace, ma a questo non ero preparata, a questo è stata veramente proprio una chicca. Senti, Millie, prima tu hai detto, no, perché è il nostro lavoro, giustamente, un momento sei su, un altro momento ti fermi, però la verità è che noi abbiamo una cosa in comune, che a noi non ci fermano i malanni, le fratture, le cadute, perché tu come me... Millie, sì, vabbè, stasera vado a farmi vedere, tu come me non molli. Allora, guarda, io di queste ne ho passate tante. Non so, anche quando sono venuta da te a Ballando. A Ballando, meravigliosa ballerina per una notte. Oggi ce l'ho, adesso lo rimando. Quello, quello rimando. No, no, ma oggi ci divertiamo, un sacco di roba bella. Allora, intanto, dove è che ti sei rotta? Io ho rotto un osso che non sapevo neanche esistesse, che si chiama Cuboide, essendo io una ballerina sul Cuboide, che non potevo che fratturarmi, una brutta frattura al Cuboide. Sono già tre settimane oggi. Quanto ti fai, 40 giorni? Vado adesso con Corria Ospital a fare i controlli, penso di sì. Ma anche tu, come me, voglio dire, tu vai avanti. Ho un filmato. Dai. Anche di questo hai un filmato. C'è un problema, che è questo. Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito, e quindi frattura completa ne avrò per... Il ghiaccio è scivoloso. Come vedete, a me ieri sera è capitato un ruzzolone di quelli incredibili. Stai attenta. Piano, 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 aspetta. Tipi tipi tipi, dove vai? Proprio di corsa, portato in clinica. Tipi tipi tipi, cosa vai? Ho paura di ricascare un'altra volta, devo dire. Un po' ce l'ho. Tipi tipi tipi, come mai? Non facevo nulla, un sacco di patate. Ma sì, perché io mi sono sempre fatta male così. Cioè? Non mi sono mai fatta male facendo qualcosa di eroico, perché tu almeno puoi raccontare stavo scendendo, non so, dalla pista nera. No, a me sono capitate cose da fermo. Sai quelle cose cretine? Sono caduta sul ghiaccio da fermo, insomma, tutte cose. Però devo dire che ho fatto tutto con grande simmetria. Tutti e due i polsi, tutte e due le caviglie, tutti e due i piedi. Quindi ormai ho dato, spero, fammi fare corna in piccola. Io sono volata dalle scale, invece. O l'hai infradito? Sono inciampata, sono infradito. Terribile. Però non hai mai mollato, tu sei andata in onda comunque. Sei andata avanti con tanto dolore anche perché... Con tantissimo dolore, però diciamo che io avevo in qualche modo il vantaggio di avere già avuto l'allenamento quando ero ragazzina e mi fratturavo mentre facevo pattinaggio e andavo a fare allenamento magari col braccio ingessato. Per cui sapevi anche come comportarti dopo? E come ci si comporta? E niente, ovviamente devi stare attento, fai benissimo a tenerla su e tutto quanto, però tanto fermarsi a che serve? Ti deprimi e riesci anche a reagire meno prontamente proprio al dolore e al recupero. Quindi siccome l'essere di buon umore aiuta a rimettersi in sesto, quindi è bene fare così? No, lo so. Difficile essere di buon umore. No, di buon umore, sono compatibilmente... Io sono a letto da tre settimane, esco solo per venire qua alla domenica perché devo stare col piede ovviamente alzato. Eh sì, il piede è alto, come no. Però passa, non è questo. Sai cosa? No, certo, ma certo. Che dopo questo periodo terribile, poi ne parleremo un po' perché abbiamo pregliasco, professori, in collegamento e vorrei che tu rimanessi con me così per capire bene a che punto siamo, perché se ne dicono tante, dopo questo periodo del Covid dove siamo stati così, un periodo molto difficile, molto complicato per tutti, per l'altro però è un periodo carino, carino, nel senso che anche lì tu come tanti altri non sei stata ferma perché tu ti sei inventata. Io ho visto ieri il filmato, ce l'abbiamo? Millie da casa, io resto a casa show. Guardate Millie che cosa si è inventata. No, è carino. No, è vero per fare qualcosa per non deprimersi appunto, per non lasciarsi andare, no? Eh, guarda, abbiamo fatto un piccolo, un micro nano show. Guardiamo. Eccoci qui amici, un altro appuntamento con Io resto a casa show. E' la prima sfida che è la canzone selfie. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Cari cablucci, sento il tuo odore da qui. Il tesore è finita che qua veramente c'ho Nicola col gattossi in suoppo. Uno spettacolo fatto in casa. Vieni l'aria che fa la nostra canzone d'amore che fa Ma che ci frega ma che ci importa se lo stervino ci ha messo acqua tan-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran-Ran. Olè! Questa era Simone! Proprio fatto in casa! Quella era Simone di Pasquale. Ma art ,ai che molto carina l'idea? Beh l'idea che tanto eravamo tutti quanti discusi. Poi eravamo un po' in quel periodo in cui davvero sì alle 6 l'inno d'italia dal balcone ma stavamo un po e 6 arrivava vita in diretta anche con il conto il risultato dei dei abbiamo detto senti teniamoci compagnia teniamo una compagnia a quelli che stanno sul web facendo un po i cretini con questo micro nano show no quindi ognuno abbiamo messo era molto carino tutti i tuoi amici quelli di sempre e facevamo delle prove improbabili con canino giudice supremo insomma è così ce la siamo cavata per passare il tempo come è stato questo periodo per te per la tua famiglia i tuoi figli beh intanto un figlio sì perché patrick non è potuto tornare da londra perché lavora sì e quindi la sua azienda l'ha tenuto lì poi dopo sono andati in smart working a un certo punto ed è stato certo meglio però quando lui è rimasto lì è rimasto lì e angelica angelica è venuta a roma era a roma con me a casa proprio perché ha detto che faccio da sola vengo a casa con te quindi ce l'ho avuta con me la mia che da una parte certo è tornata a stare con voi con te con anche carissimo questo è stato molto bello e poi poco prima dell'inizio del lockdown per fare compagnia alla mia cagnolina ereditata da papà una cagnolina che si è un po entristita con la perdita di papà e non è più stata la stessa ho portato un cucciolo a casa quindi mi sono fatta tutto il periodo dello svezzamento del cucciolo il lockdown ho dovuto impacchettare il tuo bel da fare ho dovuto impacchettare la casa perché i cuccioli chi ha i cuccioli lo sa fanno qualunque cosa da qualunque parte un bambino piccolo il peggio peggio senti voglio andare avanti che c'è un momento della tua carriera dove in maniera meravigliosa devo dire tu con luciano pavarotti hai presentato ma vi siete anche un po inventati perché so benissimo che tu hai anche partecipato un po come autrice alla costruzione di questo spettacolo meraviglioso ed è un vero peccato che a un certo punto non sia più stato fatto e sto parlando di pavarotti and friend vediamo allora questo filmato e poi mi devi raccontare un po di cose le luci della mondo visione sono accese per una serata di grandissimo interesse musicale ma soprattutto per una serata di grande importanza umana una serata dedicata alla solidarietà voi sapete che questa sera dal palcoscenico su cui si esibiranno tantissimi cantanti luciano pavarotti ecco io penso che questo sia stato un programma che ti è riempita d'orgoglio ma guarda è stato sì sì no ma l'onore immenso che luciano mi ha fatto di tenermi vicino a sé di farmi vedere come lui lavorava che cosa facesse e poi mi ha introdotto in un mondo che io non potevo neanche sognare di avvicinare no perché lui conosceva personalmente i più grandi personaggi delle di tutta la terra che con grande semplicità venivano a fare il pavarotti and friends perché erano suoi amici suoi e di nicoletta loro due sono stati i veri deus ex machina di questo di questo programma lui come visto amava fare gli scherzi poi si intuiva da questo filmato quando lui ti viene vicino il grande affetto il grande legame tra voi guarda veramente legame pieno d'affetto io ovviamente cioè se direi c'è grande stima da parte mia cioè voglio dire è ovvio è meno scontata la grande stima da parte sua che mi dimostrava lasciandomi carta bianca nel gestire le cose no quindi grande fiducia la cosa bellissima che ho visto di luciano è stato per tutti quanti diciamo il il genio che ha creato la contaminazione con il pop che ha fatto capire alla gente normale che la musica classica non è noiosa imbalsamata rigida è molto bella ci sono delle aree meravigliose ci sono c'è tanta parte della nostra storia della nostra cultura e però la cosa bella con con lui è stato il fatto di capire che un grande personaggio non smette mai di avere paura lui era uno che prima di entrare in scena era terrorizzato aveva le mani ghiacciate sudate sempre e un giorno che eravamo proprio lì e dovevamo lui doveva stava per entrare e lui disse il giorno in cui perché io gli feci notare questo fatto che era appunto ma come mai dice il giorno in cui non dovessi più avere questa paura di entrare in scena la paura di non sapere se poi mi uscirà la voce quando io arrivo lì no e devo tirare fuori la voce per la prima nota allora vorrà dire che non devo più fare questo lavoro è un po quello che diceva edoardo no gli esami non finiscono perché è importante perché devi essere tutti dobbiamo essere umili ed essere sempre anche hai paura prima di uscire ma certo ma certo perché che ne sai che cosa succederà se scatterà quella magia se succederà qualcosa hai ragione e quindi chiaro che ho paura che chiaro che sono emozionata poi in qualche modo quando esci lì si crea spesso diciamo il 90 per cento delle volte qualche volta può anche non succedere quella particolare chimica per cui ti viene spontaneo ti viene ti diventa facile ti diventa divertente ti lasci prendere dall'emozione no è questa è la magia di questo mestiere che ci piace tanto è infatti continuo a piacerci tanto abbiamo parlato della tua famiglia di angelo e devo dire che il tuo marito in qualche maniera è un po simile al mio cioè abbiamo abbiamo la fortuna di avere degli uomini che ci stanno vicini che ci sostengono che nei momenti dove siamo ed è normale noi momenti dove di down loro sono lì pronti ad aiutarci e in questo devo dire che siamo due donne molto fortunate tu conosci anche il mio marito e lo sai con un angelo di nome come il mio ma angelo di fatto ecco e il tuo angelo in qualche maniera io ogni volta che vi vedo penso che in fondo il tuo marito è come il mio e da questo punto di vista siamo davvero grande fortuna fortuna a te arrivato prima io ci ho messo un po e il mio percorso è stato diverso voi state insieme da quanti anni 38 39 anni ormai hai capito e qual è il segreto mille e me lo chiedo anche a te qual è il segreto il segreto è una sono 20 anni ed è un record totale lo stesso sai non è che c'è un segreto capirsi parlarsi quotidianamente succedono tante cose ecco in queste tante cose non perdere di vista che chiaramente ci possono anche essere dei momenti meno brillanti non è che tutto sia perché sai qual è il nostro la nostra fregatura che noi siamo condizionate tutte noi da bambine dall'idea e vissero per sempre felici e contenti non è quella delle favole no è ma invece il principe azzurro il giorno dopo è una persona che ha i problemi di tutte le persone no quindi puoi avere il momento di nervosismo e il momento no il momento di incomprensione bisogna non perdere di vista il perché ci si è messi insieme no qual era qual era la cosa che ci faceva tremare il cuore all'inizio in modo che non perdendo di vista quella cosa si superano anche nei piccoli e poi nel corso degli anni cambia un po il rapporto ma anzi secondo me poi proprio quando il rapporto cambiano perché all'inizio c'è quell'innamoramento la passione però poi nel corso degli anni quando hai una famiglia dei figli ma anche quando ci sono le cosiddette famiglie allargate nicola con la sua famiglia io con la mia poi ti rendi conto che è vero può cambiare qualcosa però è ancora più bello ancora più intenso io credo che l'amore vero sia proprio quello del dopo non di innamoramento subito perché chiaro che gli scatta il battito del cuore no la passione certo ma poi nel corso degli anni quando tu invece costruisce qualcosa di così importante e scatta la comprensione l'amicizia la solidarietà che un po quello che noi abbiamo e allora io quello l'ho identificato come l'amore vero non potrei essere più d'accordo no 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 sono dracodissimo e bisogna veramente tenerselo stretto perché è un valore per tutta la vita ci riteniamo stretto vediamo la famiglia di milly vediamo questo filmato un altro sole quando viene sera sta colorando milly sei bravissima bellissima e io sono orgogliosissima di te vedi che anche se all'inizio non erano d'accordo poi no sei stato l'orgoglio loro si ma scherzi papà e mamma poi dopo il problema grosso è veramente perderli anche quando sei grande no tu pensi che essendo adulto sei più capace di sopportare il lutto e invece la perdita da adulto è una perdita terribile perché hai vissuto tanto insieme con i tuoi genitori hai vissuto io con i miei ci ho vissuto tutta la vita no perso mamma cinque anni fa e papà due anni fa e quindi cioè come fai a a non a non essere devastata da questo dolore un dolore che tu puoi in pacchetti e metti da una parte e perché devi andare avanti però rimane la è la in un pacchetto e soprattutto non non sarà mai più niente come prima no assolutamente non può più essere niente come prima ed è è terribile ma se le mattine che ho ancora penso adesso devo chiamare mamma e poi dopo penso non posso chiamare mamma però l'istinto è ancora quello di capisco benissimo perché per me la stessa identica cosa e poi quando dicono ma quanti anni aveva ma io credo che una mamma non ha età non è l'età non conta l'età quanti anni aveva 85 vabbè no 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 i genitori non hanno